Un vassoio con sopra il caffè che si passano due dirimpettai, uno indossa la maglietta rossa, l'altro verde, mentre nella via è appesa la bandiera italiana. È la foto che è diventata virale in rete dove ha totalizzato 30 milioni di visualizzazioni. La scattata Costanzo D'Angelo a Vasto in Vico Sportello il primo di maggio, anche questo un giorno simbolico. Un risveglio all'italiana o, metaforicamente, il risveglio dell'Italia che di lì a poco avrebbe pian piano riaperto le proprie attività produttive allentando il lockdown al quale l'aveva costretta il coronavirus. La foto, come detto, è stata super condivisa ed è diventata simbolo della ripresa dopo Covid, della cordialità, del sapore italiano e soprattutto dell'aiuto reciproco in una fase difficile del paese. Ma la spinta decisa nelle condivisioni è arrivata anche dal fatto che è stata pubblicata su una storia Instagram di Chiara Ferragni, imprenditrice, blogger, designer e influencer, moglie del rapper Fedez, che conta 20 milioni di follower. Costanzo D'Angelo, fotografo nato in Svizzera da figli di emigrati molisani e residente a Vasto, racconta di avere l'abitudine verso le prime ore dell'alba, tra le 4 e le 5, di mettersi alla ricerca di immagini da immortalare con la sua reflex, ed è quello che è accaduto con lo scatto che grazie alla rete ha fatto il giro del mondo. Nella foto ho visto il desiderio di comunicare, nonostante distanze e timori, silenzio che circonda ogni luogo, ha raccontato D'Angelo.